per noi autori entrare in classe e incontrare i lettori del nostro libro è sempre una festa ci piace tantissimo guardare il loro clima di attesa la loro sorpresa i loro sorrisi ci piace tantissimo anche il caos che sanno fare quando fanno lunghe file per il firmacopie e poi ci piace vedere tutto il lavoro che hanno fatto attorno al libro le domande che hanno come i personaggi si sono trasformati nella loro fantasia è per noi un'esperienza molto arricchente che ci dà tantissimi spunti per nuove storie ed è uno scambio davvero appassionante che vorremmo non finisse mai